Buongiorno, allora io stamattina mi sveglio e ho detto ma Francesco dov'è? Scendo, comunque solo lui eh, guardate che centro tavola, stupendo, stupendo No, con il limone, è bellissimo amore, grazie Ciccio, ti piace? Il centro tavola? Eh? È stupendo, è stupendo Ragazzi vado dritta? No amore però se, allora amore io Ma no però amore Ma per favore, ma come, io sono stupendo, cioè, non sa, tu sei stupida Scusami, allora intanto, mi coni 71, e dai, crede, ah, vai, bene, perché ridete? Vi sto riprendendo, sappiate le metterò Quindi quello che avete detto io, ma che ha detto? Che tu sei un fruscello di 20 kg, è per questo che ti muovi Guarda voi che invece... Nipotini belli, allora, noi stalkereremo come sempre anche Matilde Brandi e magari pure le amiche Per avere ogni aggiornamento sul caso, iscrivetevi al canale e magari lasciateci anche un like Ciao!